Osta esce l'operatore di nuovo se ne sbaglio Pena settimana la Chiudi la sua luce ma faccio peccato Si proprio luce ti fa peccato Ciao Bilo Si trovato Adesso cazzizzate scine il Sta bene no? Dimmi lo che ti ha detto Vai God che sono assettato di sangue Questo c'è bestoncino l'ultima volta Staccato un pezzettino dato a un gatto Staccato un pezzettino dato a un gatto Staccato un pezzettino dato a altro sentiva e ha iniziato a mangiare carta. E' un barbone il gatto. Ieri ho trovato che mangiava nella busta della spazzatura che avevamo messo per buttare. Abbiamo aspettato. Ulda. Ci metti molto e mi faccio in un duello. Mischia? Ok, sicuro. Ma facciamo domino che dobbiamo fare i soldi. Che l'1 agosto... Ah, vabbè, dai. Ok. Guarda. Eccolo là. Hey, Darkos. Me lo invito, va. Allora. Ok, God. Ceci. Che succede? Oggi ho fatto... Oggi ho fatto un doppio deflex. Aspetta, che mo' c'è quelle nuove fra poco. Già ci sono? No. Eh, già ci sono. Già ci sono. No. No, per noi mi devo conservare i quindicimila del Ulda mi devo comprare. Come esce. Quindi... Dovò superare le quindicine. mo' sono a 13 mili. Eh, ma... Io sicuramente... L'avrei perfetto tipo... Con Martello un po' più grosso tipo l'Eylander. Con Iperaro. Io non ne so niente di Ulda. Poi come esce mi faccio le tattiche eroiche. Eh, io l'ho visto su... Il live. Ma l'hai vista le seguizioni dello Shaolin Gigi? Mamma mia. Bellissima. Ah, ma la più bella è quella... Una delle più belle è quella del Priore. Poi la Valkyrie che gli fa la traciotomia è troppo bella. Anche il gladiatore. Eh, perché... Il razziatore. Eh, sì. Ma il razziatore pure con... Che cazzo gli... Ficca la trappola dell'osso in faccia e gli gira la testa. Sì. Vabbè, anche quella del guardiano non è male. Vai. Sì. 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 quella della della sciamane c'è proprio in zero la sciamane non so come mai hanno voluto l'hanno voluta penalizzare così a me sinceramente le esecuzioni riusciti c'è l'unica che mi piace dell'oceano che è quella dell'ombra pure che ha in sé quell'arco gigante che caccia all'esecuzione della pacificatrice con la balessa si che gli va al fianco con la balessa pure simbella nuovi contenuti se ti dispiare il calcio della rondine dende stendardo di lerri facciamo scintille trappole non rene altro l'ailander che gli pianta un palo nel petto ma se una lancia non si fa un palo appuntino non vedo però l'esecuzione nuova del giustiziere mica l'ho trovato è l'ultima ma l'ultima non vede il colpo finale troppo bello il giustiziere però mamma me quante vie però sinceramente alla secuzione del guardiano con lo stendardo dicono non è piaciuto cioè avrei cambiato più il simbolo almeno c'è un senso dai che prendo lo stendi ah dovete attivare la caramellina ragazzi è un 1200 peccato voglio provare dopo ma c'è un giorno già è bello già è bello come con quella faccia di ferro è troppo bello il cendulio non ha già bisogno ma non ha bisogno manco di tante esecuzioni è bello già lui il gradatore è proprio un cazzone con le bolle lo prende il cendulio oh ma dark oceani non ci abbiamo mai giocato insieme ciao dark oceani come ti chiami di nome sì mi ricordo qualcosa ma spero è un crusader quello è che cazzo mai mi scelgo lo shinobi ma se lo prendo c'è sino per mocello con che è rottura di palle sarebbe stato un libro ormai anche in decilo al di ciò è pensato come fossero gli eroi senza 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 che cosa è detto sì shinobi senza denti mica l'ho capito sono ritardato è una md gioco gioco è chiesto gioco e che fa video su faron ma guarda chi siccome mi ha ammazzato su cioti in merda su scassi in merdi kenze scassi vai si rianimami sto dietro di te combattere è rimasto one shot manco la kill mi ha dato guarda questo mi vuole buttare ma guarda scusami vai ti sto rianimando nooo eh no ma ne c'è su cristo te ma rianimati no io inizio basta per trovare uno contro uno se è venito un po' più giù mi butto dal balcone se ti metti giù dal balcone hai catturato la zona A a chi che ha salvato il culo ha dato poveri sì io mi prendo la C nel dubbio ora vi putto dall'alto l'ho presa va chiù eh che rottura di palle che sei maledetto figlio di puttana che dio ti maledica due contro uno sempre sempre due contro uno eh come mi fanno addossicare quando c'è gli operatori che mezzo vuole che codardo a guardare come scatto quel tempo ales non ci credi sono scato da不多 e un codardo un qualche genere può essere anche prestigio 20se ma sempre codardo di ma perceputo un messaggio a breve chiameremo io non l'ho capito tutto si va che ora mi vuole fare cadere va e così tu vuoi fare le kill ma fricatini che ti fanno perri ma ne rimotti che ti è morto si gira mi trolla pure o regali che mi sta tornando di brutto con la nuova esecuzione si mette a cagare su di voi fate decidere che è troppo bello mi ha canticata sopra ti cagasopra fate uccidere ti cagasopra è perché il troppo divertente aiii chandati no no lo prendo meno male che almeno mi c'è fatto buttare il veleno coprimi coprimi quanta vita c'hai ah non te li sei andato mannaggia eh ma perché io ho preso la C miccia che è bello fanno a scopare un po' oh 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 56 50 mamma che è partito hai buttato di sotto aiuto vediamo se lo posso buttare da io da qui ti rianimo eh no chi è che sei andato hai catturato la zona C ti sto provando la arriva che zero aiutatemi sull'alto la volta hai visto conto madonna mia fuori dai coglioni mi rianimate mi vedo come l'avete ammattato i 15 in due nanosecondi mi stava insegnando da me gioco e qui facciate un degusti di danni alla mia chi si è suicidato al volo da qui ti vengavi animale va no stuc incredibili poverin sono andati rotte ma non mi dico che pensi a far tutte quelle parole e perdere pur Kenze sta andando sulla ma non ce la faccio andare mi dispiace mi dispiace mi dispiace mi dispiace che bello l'ultimo ho ucciso Kenzea l'ultimo 1 contro 1 che bello ma oggi ho chiuso in varità meno male 15 3 guardando questi fanno la rivincita sicuramente ma allora io quello che ci ho visto a fare a dark neanche su youtube sinceramente ho visto fare uno si butta dall'alto per ucciderlo e lui mi fa quella cosa che lo ha capote con lo scudo è una cosa assurda madonna mi che vergogno ragazzi ci sono troppo due volte due volte l'ha fatto nella stessa partita una volta l'ho visto in diretta proprio davanti a me una volta che stavo guardando a lui che io ero morto in human reaction come cazzo fa questo ma quando lo fai quando ti esce punto esclamativo lo fai o aspetti dopo il punto esclamativo un secondo aspetto appena mi sta per arrivare il colpo e ma io non riesco a vedere la grafica dall'artimo io vado a sensazione hanno accettato accettata a a a a a a a ragazzi c'era con me quando i ieri siamo andata a fare lo spawn kill per dieci minuti alla base loro e chi c'era allora era fabrizio tu dac c'eri pure il cendurione un altro si si così è successa la partita aveva fatto 14 1 il cendurione ha cominciato a trollarli oh le ho fatto fare tutta la partita i cooldown tutta la partita perché la prima volta mi uccideva sempre perché io avevo il lo shinobi e come mi trollava madonna mi mi ha distrutto il cendurione mi ha distrutto mi ha fatto fare 0 9 0 11 non mi ricordo bene mamma mia che mi ha fatto il è il bello che quando lo trovo con giustizia e davanti ha iniziato a trollarmi e l'ho uccise me ne vado lì davanti dove nasceva e non è uscito più cioè pensa che mi sono fatto la tripla con 10 20 mignoni intorno che mi spawnavano in mezzo e più tutti i suoi amici che spawnavano e noi ammazzavamo a tutto si è riuscito a liberare verso l'ultimo e mi hanno attaccato in tre e mi è andata bene che l'ho ammazzato tutti e tre vergognoso abbiamo vinto tipo mille a 120 io ti seguo hai perso la zona poi il mio friore l'ho reso parecchio versatile con le brille mattino più veloce negli attacchi pozione che quando uccido un nemico recupero vita e casta di redomino l'ha già in veneto hanno volato bush ma che cazzo fa questo mi ammazzo vuoi vedere questo mi ammazzo ciuccia là no mi ha ucciso ma ti rendi conto come mi ha ucciso questo vai one shot vai ti ha ucciso vai 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 oh no no io inizio non voglio rianimo grazie raga quando ho bisogno di rianimazione ve lo dico se non perdere tempo sul mio cadavere dai ecco qua come cazzo ti ha presi ma tu non sai che mi è successo a me ma tu non sai che mi è successo a me e guarda e guarda no madonna mia aia che bella trollata il priore oh ok il priore ok vediamo quando c'è il cooldown mi ha trollato il priore ecco sta morendo sta morendo il priore vai muori uccidetelo uccidetelo nooo peccato perché non è morto ma hai morto il priore nooo cazzo devo scappare allo sponchile raga dai dai 9 secondi sono andando allo sponchile a priore che mi ha trollato è usciti i miglior di merda guarda che che rottura di miglia eccolo no c'è pure l'annobusche si si ho trovato sono con l'annobusche allo sponchile sono andato per il priore eccoli mi stanno attaccando in due è nata l'annobusche all'improvviso mi hanno spappolato si 0-3 0-3 guarda quei mignoni che mi hanno fatto sull'adi c'è il priore per cazzo uccite uscite 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 dal lascia lascia il mio priore dai fammi picchiare fammi picchiare ma dov'hai le belle chi vuole vedere com'è lo sponchile andiamo che si sta arrivando lo shambi suci ah eccola eccola fate le fide no voi me le hai fatte andare in vendetta e mo ti freghi god cosa cazzo è tua vabbè te la fermo va tutte e due morte aspettiamole di nuovo qui vai questa ma la salvo ragazzi mi stavano cancando ero ero vicino solo per cadere no hai messo qua ecco le priore mamma mia tutti quanti sono sponchile aiutatemi oh venite subito allo sponchile raga vi prego che cazzo che cancro di merda quello con la ulti no ah sono morto io sono morto sono andato per prendere al priore me ne sono trovato quattro che massacro vabbè dai vado a fare almeno il livello 2 e mignonne raga da basta mo vabbè da 0 4 4 4 vado recuperato da meno ma prendo la b che raga mi pulisco i mignonne io sono un po' fuori non ci sono che mi devo fare il livello che non c'è la protezione dei danni che non c'è la protezione dei danni che mi servono a quale vita che li spappola tutte e due mi volevo un ammazzare il cielo oh no son facendo io lasciatemelo mi hanno attaccato in due c'è dolore nella ramoush e la questione è è mido che si può si passami ah no è Fabrizio sicuramente avevo fatto una live non è mio fratello è come tre su altri ma se sono qua le due buccelli del centurione tutte e tre qua sono ah ma siamo i tre qua ok vai andiamo raga venite mi sto curando questi qua fanno una brutta fine questi fanno lo stesso una brutta fine mo mi buttano oh pure in vendetta poveri loro poveri loro che gli faccio mo scappa scappa a bello a dove vai guarda dove sono caduto la bomba là la bomba là no dove l'ho buttata la bomba andate a prendere quella ramuscia stupido attenzione 0484 recupera fammi una live allora facciamo la live Fabrizio come l'hai indicato